Ragazzi, finalmente anche in Italia, come la Francia, ci stiamo svegliando. Abbiamo voglia di manifestare per mandare a casa questo governo. Finalmente. Sentite, leggiamolo. Stiamo organizzando la manifestazione più bella del mondo. Il primo settembre tutta l'Italia finalmente si ritroverà, tutta l'Italia, si ritroverà davanti a Montecitorio per licenziare quei farabutti del governo. E vai ragazzi, questa volta ce la facciamo. Però, 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 c'è sempre un però. Il primo settembre, ragazzi, sono ancora 35 gradi. La facciamo come i smart working? No, no. La rimandiamo a ottobre. Però anche a ottobre c'è ancora il caldino. Quindi io direi di rimandarla al primo novembre. Ah, il primo novembre è festa. Ah, ok, quindi no. Il primo novembre è festa. Il primo dicembre, che c'è il primo dicembre, trovata la data. Il primo dicembre c'è fresco. Ah, devi andare e cominciare a fare le compere per Natale, perché poi all'ultimo momento non trovi più niente. Il primo dicembre no. Va bene, fa niente. Primo gennaio, che c'è freddo, ragazzi. Ah, il veglione, la notte prima. Quindi neanche il primo gennaio si può fare. È festa, giustamente. Capodanno, cazzo, me ne vado a Moncitori, cosa ci faccio? Niente. Facciamo a febbraio. Primo febbraio, che c'è ancora fresco, bello. Carnevale? Ah, ci sono, quindi... No, non si può fare perché c'è carnevale. Poi magari... Oh, che ci prendono per buffoni, perché è carnevale. Magari non credono neanche che sia una manifestazione giusta a me. No, no, no. Allora, facciamo una cosa. La facciamo il primo marzo. Non si può fare neanche il primo marzo, perché dopo tutto l'inverno abbiamo bisogno di recuperare vitamina D. Allora facciamo il primo aprile, prima che arrivi il caldo, quello potente. Il primo aprile, poi dopo un paio di giorni è Pasqua, la festa. Cazzo, vuoi fare una manifestazione prima di Pasqua? Dai, non ci sta. Facciamola a maggio. Ma il primo maggio è festa, è festa dei lavoratori. No, no, il primo maggio non si può fare. Allora la facciamo il primo giugno, ragazzi. Il primo giugno, ci sono già 35 gradi il primo giugno. Eh, ragazzi, allora, facciamo una cosa. La soluzione c'è. Non fatevi prendere dal panico. Possiamo mandarli, possiamo licenziarli questi farabuti, facendo una manifestazione. Ci troviamo tutti il primo settembre davanti al computer e facciamo una bella manifestazione più bella del mondo in smart working. Che ne dite? Li mandiamo a casa questi farabuti in smart working. E vai, visto che c'è la soluzione. Governo Meloni, dove ne state per andare a casa? Noi con lo smart working, perché c'è caldo, ne facciamo di tutti e di più. Vi mandiamo tutti a casa. Dovete farvi una ragione. Eh, eh, già, questa è l'Italia. E non fa una piega.